Sei in compagnia di SPS Italian. State ascoltando Slow Italian Fast Learning. Per trovare il testo a fronte italiano-inglese, visitate www.sbs.com.au barra Slow Italian. Slow Italian Fast Learning. Il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Christian Lindmayer, ha dichiarato che, mentre l'ultimo rapporto dell'organizzazione valuta il rischio del virus per la Cina come molto alto, un'emergenza sanitaria globale non è giustificata, dato che il virus deve ancora diffondersi ampiamente fuori dal paese. Quando abbiamo capito di capire come il virus trasmette o in quale forma trasmette, se è solo in una forma di quando un paciente avviene forti sintomi o anche in una forma di sintomi milde, ovviamente i paesi e i sistemi di salute possono molto meglio preparare. E poi sappiamo anche cosa si può guardare a punti di entrare in aeroporti, harbors o train stations, per esempio. Lindmayer ha dichiarato che possono volerci da 1 a 14 giorni affinché i sintomi si manifestino e i contagiati possono trasmetterlo ad altre persone in quell'arco di tempo. La professoressa Raina McIntyre è capo del programma sulla biosicurezza al Kirby Institute dell'Università del New South Wales. Ha spiegato come i tassi di mortalità del coronavirus di Wuhan si confrontino con quelli di altri virus simili come la SARS, sindrome respiratoria acuta grave, e la MERS, sindrome respiratoria medio-orientale. Ha detto che le stime su quanto sia contagioso il nuovo coronavirus stanno cambiando a causa dei dati incompleti, ma sembra che sia più altamente contagiosa della MERS. A Melbourne, gli scienziati del Doherty Institute sono riusciti a ricreare in laboratorio, per la prima volta fuori dalla Cina, il coronavirus. Il virus è stato sviluppato dal campione di un paziente che è arrivato al Royal Melbourne Hospital il 24 gennaio e verrà condiviso con l'OMS prima di essere dato ad altri laboratori in tutto il mondo. La professoressa McIntyre ha dichiarato che potrebbe aiutare i ricercatori a capire meglio i sintomi del virus, così come a sviluppare i test per gli anticorpi e un vaccino. Finora, cinque persone sono risultate positive al coronavirus in Australia. Di queste, quattro si trovano in New South Wales, dove il governo statale ha chiesto ai genitori di tenere i figli a casa nel caso in cui siano stati in Cina negli ultimi quattordici giorni. Tale raccomandazione è in contraddizione con quella del governo federale, che non comprende il divieto di andare a scuola a chi si sia recato recentemente in Cina. Il ministro dell'istruzione Dan Tian ha dichiarato a Nine Network che i genitori dovrebbero prestare attenzione alle disposizioni degli esperti medici federali. Nel frattempo, il sito del governo Smart Traveler è stato aggiornato per consigliare agli australiani di riconsiderare la loro necessità di viaggiare in Cina. Ciò mentre il governo federale continua a collaborare con le autorità cinesi per attuare un piano per aiutare centinaia di australiani a tornare a casa da Wuhan e dal resto della provincia di Hubei. Christian Lindmayer, tuttavia, ha affermato che il capo dell'OMS non è favorevole all'evacuazione dalle aree colpite della Cina. La Corea del Sud e il Giappone stanno inviando aerei charter a Wuhan per evacuare i loro cittadini, mentre la Commissione europea rende noto che contribuirà a finanziare il costo di due aerei per riportare a casa i cittadini dell'Unione europea. Dicci la tua! Lascia un commento a questo podcast su iTunes e partecipa alla conversazione!